Oggi non sono qui per chiedere il vostro voto per elemosinare a approvazione o feroci dissensi. Non sono qui per convincervi di nulla e chi si aspetta una qualsiasi di queste cose si alzi in piedi ora e se ne vada, non è il suo giorno, non oggi, venga domani o ancora domani e forse troverà il presidente che voleva le parole che desiderava sentirsi dire.